Nato a Latisana in provincia di Udine il 22 marzo 1991, Simone Corazza è una seconda punta veloce di piede destro e di taglia media. Cresciuto nel settore giovanile del Porto Gruaro, mister Alessandro Calori lo ha fatto debuttare in prima squadra nel campionato di prima divisione Lega Pro 2008-2009. Nella stagione successiva è andato a farsi le ossa in Serie D al Venezia realizzando 14 reti in 42 presenze fra campionato e Coppa Italia. È tornato fra i professionisti nella stagione 2010-2011 con uno score di 7 gol in 31 presenze con la Valenzana in seconda divisione Lega Pro. Il Porto Gruaro lo ha riportato a casa nell'estate del 2011. Con la formazione Lagunare ha giocato gli ultimi due campionati di prima divisione Lega Pro realizzando complessivamente 16 gol. La scorsa estate la Sampdoria lo ha riscattato a titolo definitivo dalla comproprietà con lo stesso Porto Gruaro. Simone Corazza è stato ingaggiato dalla Sampdoria in prestito.